Mi chiamo Raffaella, due dei miei figli hanno fatto l'esperienza del quarto anno di eccellenza a Rondine. Vorrei raccontare a tutti i genitori che stanno immaginando di intraprendere questo percorso quali sono le motivazioni che hanno spinto noi e perché vale la pena provarci. Noi ci siamo imbattuti in Rondine quasi per caso, ma immediatamente abbiamo capito fin dal giorno delle selezioni che era un'esperienza che sarebbe stata formativa e importante per i ragazzi e così è stato. Durante il quarto anno abbiamo visto i nostri figli, ognuno in maniera diversa e secondo il proprio carattere, le proprie inclinazioni, cambiare, maturare e crescere non soltanto dal punto di vista didattico ma dal punto di vista personale. Rondine è un'esperienza che insegna ai ragazzi a guardare dentro di sé e a guardare al mondo. Questo è un dato che abbiamo riscontrato anche negli amici dei nostri figli che abbiamo avuto modo di conoscere. I ragazzi escono rafforzati, confermati e diciamo aiutati nelle proprie debolezze. Ognuno secondo il suo carattere, il suo verso, non escono tutti uguali o omologati. Questa è una delle ragioni che ci ha fatto credere nell'esperienza di Rondine. Io immagino che soprattutto dopo un anno come quello della pandemia ci sia un gran bisogno per questi ragazzi di uscire ma comunque di rimanere sicuri e saldi. L'esperienza di Rondine secondo me offre queste due opportunità. L'opportunità di ricominciare, di ricontattare i propri coetanei e un'esperienza formativa seria e adeguata. Così come anche la necessità di guardare al futuro che sarà probabilmente molto diverso, con fiducia, con speranza e anche con qualche punto di forza in questo Rondine, secondo me è capace di aiutarli.